Com'è contenta? Ma sei stanco? Ti è piaciuta la Ricciola? Ti chiamo una mano noi Ricciola da 30 kg combattimento con Normic 12 libri Maurizio fa il figo, tiene con una mano Franco Non mollare, non mollare Ci sono tutti qui nel film ecco qua ci sono altri due stanno in tribuna No, no, la frizione si la frizione sta su si sta giusta il pesce è grosso, bisogna stancarlo vediamo chi si stanca prima io sto metto vai, pompa, pompa ma non vuoi niente se ne si rompe la mia mano no, no, e lascia venire non vuoi no, allora mi sono chiamata nel bosco ahahahahahah Grazie.